Ciao a tutti, quando il partner si allontana? Allora, può succedere che un partner si allontani? La prima cosa da evitare di fare, ma prima di dirti quello che devi evitare di fare, ti dico di quello che devi fare. Devi iscriverti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione, e seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Bene, una volta che hai fatto tutto questo, ti dico quello che non devi fare quando il partner si allontana. Non devi inseguire, non devi supplicare, non devi cercare di essere coercitivo o coercitiva, ovviamente io parlo del maschile, ma è uguale anche al femminile, quindi non devi fare pressing. Quello che devi fare è lasciare che vada, che si allontani, e instaurare subito un no contact, cioè non lo pensi, non lo cerchi. Lasci passare il tempo, e una cosa importante è cercare di capire però, poi se i motivi, se non ti dice niente, se i motivi sono stati più logici o più emozionali. Perché se il motivo è logico, per cui sei lontano, intanto questo lascia passare 21 giorni, e poi dopo, finiti 21 giorni, perché servono anche a te 21 giorni di distacco completo. Una volta passati 21 giorni, inizia a riflettere. Se non si rimanifesta, insomma, per capire poi un riaggancio, come possa avvenire, per capire se si tratta di situazioni legate a fatti logico-razionali. Logico-razionali sono, non lo so, cui magari vuole un figlio e tu non puoi pioverne perché è un'età in cui non può pioverne. Faccio degli esempi, oppure altri motivi logici, magari si allontana perché capisce che sei povera, sei troppo ricca, o sei povero, sei troppo ricco, non lo so. Insomma, i motivi logici possono essere infiniti. Se si tratta solo di un motivo logico, va tamponato. Cioè, devi trovare qualcuno che lo ristrutturi, che gli dica una persona di cui si fida, che gli dica, guarda che, nonostante che, però è la persona giusta per te, però deve dirlo a qualcuno che si fida. Se no, lui deve farsi questo ragionamento vedendo un tuo comportamento diverso. Insomma, devi cercare di tamponare questa cosa. È evidente che, diciamo, se le persone non fanno nulla, non si ottengono risultati. Quindi qualcosa dovrei fare per capire, insomma, cercare di capire. Se la situazione, invece, è emozionale, cioè si è allontanato per dei motivi emozionali, allora non c'è niente da fare se non recuperi le emozioni, se non dai emozioni. Qui potrebbe essere utile introdurre un antagonista, potrebbe essere utile introdurre delle situazioni che vengono, diciamo, che vengono direttamente da te. Cioè, lui dovrebbe percepire che ci sono delle persone che sono interessate. Lei dovrebbe percepire che ci sono persone interessate. Qua sento, arrivano gli squilli, gli squilli. Bene, comunque, questo è quello che bisogna fare fondamentalmente. capire le motivazioni e cercare di o ristrutturare a livello logico-razionale o dare emozioni. Questo è quello che devi fare. Però devi prima lasciare passare almeno un periodo di 21 giorni. Il riaggancio, poi, può avvenire passati 21 giorni. Una volta che hai visto quali sono le motivazioni e quello che hai visto tutto, si può fare, diciamo, inserendo una, come dire, inserendo un messaggio civetta, un semplice ciao, come stai, per capire se è già giunto il momento e accetta un contatto oppure bisogna far passare altro tempo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale. Iscriviti anche al mio nuovo canale. Felicità e benessere. Ciao a tutti. Ciao a tutti.